Sommo Colonia, antico borgo collinare del comune di Barga, oltre ad essere un luogo incantevole da cui si ammira un panorama unico, lega il suo nome anche alla tragica e sanguinosa battaglia che qui si combatté il 26 dicembre del 1944, tra alleati e partigiani da una parte e tedeschi e alpini della Repubblica Sociale dall'altra. Fu l'unica vera battaglia che si combatté da queste parti durante il passaggio del fronte e per questo è un luogo simbolo nella storia della liberazione. Proprio per rimarcare tutto questo il senso della cerimonia che qui si è svolta nei giorni scorsi presso la Rocca La Pace, è stato scoperto il vector di Liberation Route Europe alla presenza delle autorità cittadine della Presidente di Liberation Route Italy Raffaella Mariani e del Presidente dell'Associazione Linea Gotica Officine della Memoria Massimo Turchi. La Liberation Route è la rotta che unisce simbolicamente paesi e persone in tutta Europa per preservare e valorizzare il patrimonio culturale relativo alla Seconda Guerra Mondiale e soprattutto i luoghi simbolo della liberazione e dal nazifascismo. Così ora fuori dalla Rocca si trova questo simbolo fisico e concreto che segnala questo luogo nell'ambito della strada della liberazione. Peraltro proprio dalla Rocca di Sommocolonia il 16 giugno prenderà il via il progetto Percorsi della Memoria ideato dall'Associazione Linea Gotica Officina della Memoria che mira a far conoscere e valorizzare alcuni dei luoghi chiave in cui si è combattuto per liberare l'Italia. Prevede otto itinerari che si svolgeranno tra il 16 giugno e il 27 ottobre toccando località storica in Toscana, Emilia Romagna e Marche. La tappa di Sommocolonia condurrà attraverso i luoghi la storia degli eventi del 26 dicembre 1944.